A me è piaciuto molto il fatto che è un corso molto penetrante perché la Divine Connection è molto potente, ti arriva dentro, è rompente e ti porta a un cambiamento immediato quindi basta eseguirla in pochi minuti e quello che ti creava un blocco riesci a superarlo, ad attraversarlo questo per me è stato molto significativo perché tutti quanti abbiamo qualcosa da superare ho fatto molti corsi, ognuno lavora su un singolo aspetto e la maggior parte dei corsi ti insegnano a lavorare con la tua parte mentale quindi la mente reagisce solo alla stimolazione delle tue domande ma se il problema è a livello più profondo il tuo inconscio si sa che ha un valore superiore al controllo della mente e quindi ti blocca con la Divine Connection riesci a parlare direttamente al tuo inconscio e questo ti porta a esprimere il massimo potenziale in pochi minuti e cosa non mi porto a casa da questa esperienza ho rotto molti dogmi con me stesso ho scolpito quello che mi teneva imprigionato quindi lascio qui in hotel tutto quello che mi appesantiva quindi mi porto a casa molta leggerezza domani ti dico io in particolare sono riuscito a lasciare andare la ferita da separazione che è una cosa che ho scoperto qui non ho letto in questa cosa in nessun altro libro che ho letto e per me è stato tanto mi ha portato a fare un passo evolutivo importante volevo ringraziare Patrizia per la sua dirompente umanità perché gli altri ti provano a vendere qualcosa ti promettono o comunque ti garantiscono anche un percorso di crescita Patrizia con la sua umanità ti porta a vincere ogni tua paura e a esprimere te stesso al meglio possibile Grazie mille Grazie mille Grazie mille